Credete nei sogni e diffidate delle illusioni. Siamo circondati dalle illusioni. I sogni sono una cosa che appartiene a noi. I nostri sogni vengono da noi. E quindi in qualche modo ci stanno dicendo che cosa possiamo essere, che cosa siamo, cosa potremmo diventare, qual è la nostra strada. È per quello che noi abbiamo dei sogni. Ognuno ha sogni diversi dagli altri. E questi sogni vanno coltivati, si cerca di raggiungerli. Ci si può riuscire. Non ci si può riuscire. Ma di sicuro si sta percorrendo una strada che appartiene alle nostre gambe, che appartiene al nostro percorso. Le illusioni no. Le illusioni invece sono desideri di altri che vorrebbero applicare a noi. Diventiamo, come dire, prede di interessi altrui. E nelle illusioni c'è tutto. Ci sono le religioni, ci sono le ideologie, c'è la pubblicità. E' tutta una gigantesca illusione che vi fa credere di dover essere, desiderare quelle cose. Ma non sono cose che sono dedotte, sono cose che vi vengono indotte. Ed è un peccato. Ed è un peccato perché è un mondo che non ci vede più muovere noi stessi da parte di noi, ma veniamo mossi da altri. Quindi, occhio alla penna, credete nei sogni, ma diffidate dalle illusioni. Apprezzate la fatica. Se potete, nella vostra vita non abbiate paura di faticare. Perché il valore delle cose è determinato dalla fatica che si impiega nel poterle ottenere o nel poterle realizzare. Se otteniamo delle cose senza fare nessuna fatica, queste cose non hanno nessun valore, non servono a niente, non ce le rendiamo nemmeno conto. E' l'immensa fatica che facciamo per poterle ottenere che gli dà valore. Questo vale non solo per le cose, non solo per i traguardi, ma anche per gli affetti, per le sensazioni, per i sentimenti. La fatica è un piacere se diventa amica ed è un terribile mostro se non è una nostra amica. E certe volte ci illudono che le cose ci possono appartenere senza fare alcuna fatica. Quasi che ci aspettassero di diritto. E probabilmente riusciamo anche a ottenerle con grande facilità. Ma poi ce l'abbiamo lì e poi ne vogliamo solamente altre perché tanto non costa nessuna fatica a ottenerle e quindi non hanno nessun valore. E se le cose che abbiamo e gli affetti che abbiamo non hanno valore, se le cose che ci stanno attorno perdono di valore, guardate che poi potreste avere grossi problemi. Perché quando le persone hanno cose o sentono cose che non hanno valore finiscono per non rispettare. Noi rispettiamo ciò che ha valore. Se le cose non hanno valore non le rispettiamo come non rispettiamo le persone. Se per noi non hanno un valore importante in quanto è stato anche faticoso poterle accettare, poterle tollerare e poter vivere insieme a loro. Siate felici. Diceva Kurt Vonnegut quando siete felici fateci caso. Perché noi siamo abituati a immaginare che tutto ci spetta di diritto e quindi quando accade una cosa che è spiacevole la vediamo come una un'alesa maestà alla nostra esistenza. in realtà nella vita esistono cose piacevoli e cose spiacevoli ma la felicità fondamentalmente dipende da noi. Lo sapete che dicevano i nostri nonni ma l'avete sentito pure voi se avete pure voi i nonni se state qua qualcuno va partorito quindi in qualche modo è una sorta di dipendenza genealogica della quale non possiamo fare a meno. Chi vuole il bicchiere mezzo pieno è chi guarda il bicchiere mezzo vuoto. Dipende da noi perché la vita è uno stato mentale. Se noi abbiamo un bicchiere e guardiamo la parte mezza vuota saremo eternamente infelici. Se guardiamo quella mezza piena invece saremo contenti perché nella vita si fanno delle scelte e come si dice a ogni scelta corrisponde una rinuncia. E se io poi passo tutta la mia vita a guardare ciò a cui ho rinunciato invece che guardare ciò a cui sono riuscito ad ottenere e faccio una vita terribile perché è faticoso c'è sempre qualcosa a cui si deve rinunciare per poter avere qualcos'altro. E questa è la logica del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Godetevi il bicchiere mezzo pieno. Non guardate quello mezzo vuoto. E se per caso volete il bicchiere pieno pieno e non riuscite a riempirlo il bicchiere siete voi. Fatevi un bicchiere più piccolo. Desiderate di meno. Tutti quanti abbiamo delle saccocce nelle quali possiamo mettere delle cose. Ma nelle saccocce c'entra un certo numero di cose e le altre non c'entrano. Il problema è che viviamo in un mondo che ci illude che tutto è possibile che tutto ci spetta di diritto che ci sono mille cose che possiamo ottenere e ogni volta ci spostano l'orizzonte come vi dicevo prima e così si vive costantemente in un'eterna insoddisfazione. Ed è un peccato ed è un peccato soprattutto all'età vostra. All'età vostra voi avete il diritto ed il dovere di essere felici per goderveli fino in fondo quello che la vita mi mette a disposizione. Grazie a tutti.